Frondarola ha la sua nuova piazza. Sono stati finalmente completati i lavori di riqualificazione della caratteristica piazza Madonna delle Grazie nella frazione di Frondarola a Teramo. Un intervento condiviso con i residenti frutto anche di un'attività di indagine conoscitiva sul posto, volta a raccogliere informazioni e spunti utili per realizzare una piazza accogliente capace di valorizzare il borgo tramite la caratteristica terrazza panoramica sul Gran Sasso. Sì, abbiamo finalmente concluso i lavori per questa riqualificazione urbana del fantastico borgo di Frondarola. È una piazza importante, era stata lasciata in totale abbandono, oggi è veramente qualcosa di bello, con una giornata così si apprezza ancora anche la visuale verso il Gran Sasso, ma devo dire che tutti i lavori che sono stati fatti sono stati fatti in armonia con il territorio, anche se sono durati qualche giorno in più, ma voglio dire poi alla fin fine il risultato finale ne valso veramente la pena. Un colpo d'occhio fantastico, di giorno è bellissima, di notte è ancora più bella, con un'illuminazione veramente particolare. Costo dell'intervento circa 300 mila euro provenienti da fondi PNRR, lavori che per l'amministrazione comunale rappresentano solo l'inizio per la riqualificazione completa della popolosa frazione. È stato un lavoro importante con la riqualificazione di tutti i sottoservizi, veramente è stato un lavoro importante in un contesto urbano di degradato e abbandonato e nello stesso tempo una riqualificazione che rende merito. Adesso bisognerà fare ulteriori lotti di intervento all'interno della zona più interna della frazione del borgo di Frondarola per ultimare quello che è stato l'inizio di un percorso che deve vedere tutto il borgo riqualificato. Quali saranno i prossimi cantieri nelle altre frazioni? Adesso siamo a conclusione su Cavuccio, molte piazze si stanno concludendo, diciamo che tutti i lavori che avevamo annunciato prima delle elezioni, grazie anche ai fondi del PNRR, stanno arrivando a conclusione. Adesso nelle prossime settimane inaugureremo tutta un'altra serie di lavori che si sono conclusi o che si stanno concludendo. Altri che mancano, piccoli particolari, ma che nello stesso tempo produrrà un miglioramento qualitativo della vita dei nostri cittadini sia nelle frazioni sia su Teramo Città.